Alberto Barbera, allora questa mostra come sarà? Sarà ricchissima, varia, spettacolare perché ci sono moltissimi film molto attesi, con grandi cast che arricchieranno il tappeto rosso, finalmente aperto al pubblico. Ben cinque film italiani nel concorso principale, con grandi registi come Gianni Amelio, Luca Guadagnino, Andrea Pallauro, Susanna Nicchiarelli e Emanuele Criarese. Altre tanti titoli francesi nel concorso di Venezia 79 e 4 americani. La mostra di Venezia svela le sue carte. I divi sono tantissimi perché cominciamo il primo giorno con Adam Driver e Greta Gerwig, poi ci saranno Timothée Chalamet che è un beniamino del pubblico naturalmente, Penelope Cruz, Virginie Firat, Florence Pug, Olivia Wilde, Christopher Walsh, Willem Dafoe. Poi Barbera si sofferma sullo stato di salute tra luci e ombre del cinema italiano. Una produzione qualitativamente impressionante, siamo arrivati a 250 titoli prodotti in un anno, alcune eccellenze sono i film che vedremo a Venezia, che confermano lo stato di salute del cinema d'autore italiano, ma anche molti film la cui qualità è insoddisfacente, come se la quantità avesse prevalso sull'esigenza di lavorare allo sviluppo delle sceneggiature, ai tempi di ripresa sul set, al montaggio. Grazie a tutti.